Spunta una nuova indiscrezione che parla di un possibile ritorno dei duchi di Sussex nella famiglia reale, solo in un determinato momento. Un esperto stravolge le carte in tavola e anticipa che Ferry e Meghan Markle potrebbero fare ritorno nella famiglia reale. Ovviamente, si tratta di un'indiscrezione e va presa con le pinze, anche perché ci sono delle rivelazioni contrastanti. Infatti, c'è si dice certo del fatto che l'ex attrice di Sussex non sia in alcun modo disposta a tornare nel Regno Unito. Eppure oggi arriva un rumor, che non viene svelato da una persona qualsiasi, bensì da un autore reale, Tom Quinn. Quest'ultimo è certo che Ferry e Meghan starebbero pensando di fare ritorno a corte in un momento ben preciso. Nelle scorse settimane si è parlato di una presunta rottura tra i due duchi di Sussex. Sono trascorsi circa due anni da quando si sono tirati fuori dalla Royal Family, scatenando un caos all'interno della corona. Non sono di certo rimasti fermi negli Stati Uniti. Hanno avviato varie collaborazioni, portando avanti i loro rispettivi impegni lavorativi e cercando di crearsi una posizione ben precisa. Di recente sono anche stati premiati per il loro supporto alla Black Community e la battaglia per i diritti umani dal presidente dell'Associazione Nazionale per il Progresso delle Persone di Colore. Nonostante tutti questi impegni, il figlio di Carlo e Lady Diana ha accusato un duro colpo, hanno perso qualsiasi protezione pubblica da parte della polizia. Non può spostarsi con i figli e con Meghan Markle perché è certo che non sarebbero al sicuro. Ora il principe Ferry vorrebbe tornare a Londra per riprendere i rapporti con la sua famiglia. Ed ecco che Tom Queen, durante il podcast 2D4Daily, rivela un'indiscrezione bomba. Ferry e Meghan starebbero pianificando il loro ritorno nella Royal Family, in un determinato momento. Quale sarebbe? Una fonte ha rivelato all'autore reale che i due duchi di Sussex credono che, quando i reali più anziani moriranno, potrebbero trovare un modo giusto per tornare, come reali part-time, che già volevano essere. Questo è il piano che avrebbe in mente una delle coppie più discusse al mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.